La pianista cilentana Maria Teresa Bertolini sarà tra i gran protagonisti del festival Piano City Napoli, la grande kermesse che celebra il pianoforte nei luoghi storici della città partenopea. Piano City si terrà dal 5 al 6 marzo e nato da un'idea del pianista tedesco Andreas Kern e torna a Napoli per la sesta edizione. Un intero weekend dedicato alla celebrazione del pianoforte con concerti, eventi e appuntamenti che coinvolgono i luoghi pubblici e i salotti belli della città. Una tre giorni esplosiva, il pianoforte protagonista si lascia suonare con ogni genere musicale e questa edizione esplode con numeri ancora più importanti di quelle precedenti. 250 eventi gratuiti, 700 pianisti coinvolti, 60 house concert, 55 location sparse per la città, 160 ore di musica per i tre giorni del festival visitato nelle precedenti edizioni da oltre 50.000 persone. E tra i gran protagonisti dunque la cilentana Maria Teresa Bertolini, la pianista si esibirà sabato 6 aprile presso il complesso monumentale di Santa Chiara. La Bertolini, che vediamo in questi scatti realizzati dal fotografo Mario Roberto Mazza, si è diplomata brillantemente presso il Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino. Ha frequentato masterclass con il maestro Laura De Fusco, Bruno Cimino, Francesco Nicolosi. Attualmente si perfeziona a Roma con il maestro Orazio Maione. Ha suonato con vari complessi musicali, tra cui il piccolo ansamblo da camera del Conservatorio San Pietro Maiella di Napoli e il conorchestra della Repubblica Ceca e Slovacca. Ha tenuto poi numerosi concerti da solista in diverse località, Ravello, Maiori, Napoli, Maratea e Ariano Irpino, dove ha riscosso sempre ampi consensi di pubblico e di critica. Grazie a tutti.